in giro è un casino che se la gente fa meno al mare anche nel weekend tanto dopo ce lo ritroviamo là la diga sicuro no ma basta adesso qua si lascia di stare taglia questo che rompe un po' le balle bravo almeno via resta quello lì che va in alto e questo qua si deve vada in marrone taglia un po' un cazzo scusate devo filare un po' schiaccia giusto no poi quando è verde ancora ancora che vanno se si chiude chiude lì qua stai a sotto e con il puzza di verde e questi non penso che le abbiano messi di loro è tutta roba che abbiamo messo di noi e ma ne troveremo ancora giù la sotto è sicuro perché sicuramente le ha buttate giù altre arriva fino al cimitero facciamo anche l'ultimo pezzettino quello scemo che non facciamo mai guardiamo se no turniamo in tre ma una vecchia arma dei romani bravo guarda che incredibile questo qua è bello pestato su e tritarlo perché l'ha trittato così è giusto guarda hai visto così ecco fatto questo lo posso portare dietro questo lo appoggio qui dopo lo vengo a prendere con la macchina può anche essere guarda che tu scherzi mi cercano quelle cose qua non è in giro una baracca tipo quella dei muratori qualcosa da no quella roba lì non ci è arrivato niente per adesso però mai dire mai questo lo mettiamo qua insieme a quei ferri qua prima poi non è che ci viene comodo ricordatevi dov'è è avanti un pezzo del ponte no no ma lì non le porta via si carica vedi come si carica e poi arriva fino si è